L'amministrazione Melucci Musillo ha dimostrato di non avere affatto rispetto verso i disabili. Si dico amministrazione Melucci Musillo perché Melucci era il sindaco e perché Musillo ha governato a braccetto con Melucci per quattro anni e mezzo, avendo suoi punti di riferimento, suoi persone di riferimento in giunta e nelle società partecipate. Siamo a Lido Azzurro, una bellissima area comune di Taranto, purtroppo senza servizi, con servizi molto carenti e guardate che bello scenario. Lido Azzurro, come dice la parola, il mare, guardatelo, questa distesa, questo percorso sulla sabbia che ci porta alla riva del mare. Bene, questo percorso sarebbe un sogno per i disabili poterlo fare, accompagnati da qualcuno su una carrozzina, almeno cercare di godere un po' di aria pulita, di guardare il mare, di sognare, di sognare di essere liberi. Una libertà che l'amministrazione Melucci ha evidentemente impedito, sì, perché qui la passerella di legno che viene appunto montata, fissata per i disabili, in genere la montano sempre verso agosto, anche dopo ferragosto, sta sì e no uno o due mesi e poi viene rimossa. Come se per tutto il resto dell'anno un disabile non dovesse avere il diritto di dire in una bella giornata di primavera, in una bella domenica, anche perché abbiamo un clima molto mite, quindi non è che stiamo parlando delle piogge di Londra, quindi stiamo parlando di una città come Taranto in cui diciamocelo sempre, tranne qualche periodo, è sempre primavera e quindi pensate già da ora, ora siamo a marzo, con l'aggiustarsi dei tempi, aprile, maggio, giugno, luglio e a metà agosto si avrebbe la possibilità per il disabile di prendere un po' d'aria e non di restare sempre chiuso in casa tra quattro mura, aggiungendo alla sofferenza fisica anche la depressione morale. E quindi l'amministrazione Melucci non ha avuto la sensibilità, il rispetto dei disabili, sì, perché non mettere una passerella significa, caro Melucci e caro Musillo, non avere rispetto di chi è più sfortunato di noi. L'hai capito o no, Melucci? L'hai capito o no, Musillo? E con quale faccia chiedete ora il consenso anche ai disabili? Sì, perché state andando a chiedere il consenso ai disabili. I disabili vi dovrebbero portare qui e dovrebbero dire caro Musillo, caro Melucci, voi avete le gambe per poter camminare, io no, perché devo rimanere chiuso in casa per le vostre inefficienze amministrative? Vergognatevi, questa è una vergogna, solo questo c'è da dire, perché un'amministrazione avrebbe dovuto provvedere in questo senso. Non ora, non può dire Melucci, ora non è colpa mia perché ovviamente non sono più sindaco, ma nei quattro anni precedenti qui la passerella si vedeva solo in piena estate e non prima, caro Melucci, non prima. Qual è il rispetto che avete per i disabili? La beffa è che c'è tanto di segnaletica che indica evidentemente un transito per i disabili, ma misteriosamente questa passerella sta solo pochi mesi all'anno, in quattro anni e mezzo di amministrazione Melucci Musillo stava qualche mese e poi scompariva, però la segnaletica, l'indicazione, il cartello c'è. Poveri disabili devono subire anche questa beffa di apparire considerati, ma nella realtà non esserlo. Mi sono spostato di pochi metri ed ecco un'altra passerella per disabili, praticamente assente, rotta, un po' qualche pezzetto di legno, una piccola pedana, peraltro rotta e poi si interrompe lì la passerella. È finito il transito dei disabili. Vergogna, vergogna. Mi rivolgo a voi, amici disabili. Io non voglio cavalcare la tigre di nessuno. Mia mamma per 27 anni è stata disabile, essendo stata colpita nel 1990 da un ictus cerebrale con hemiplegia sinistra e so cosa significava per mia madre avere la possibilità di godere di un po' di mare, di essere portata e respirare un po' di aria pulita e sognare e guardare il mare. Questa è la rabbia. Questa è la rabbia che sento. Che sento da figlio, mia mamma non c'è più, che sento da figlio, che sento da cittadino e che sentirò anche da sindaco. E proprio da sindaco, in quella veste, voglio ridare questa passerella 365 giorni all'anno. Perché le giornate di sole e di mare sono tante a Taranto e devono esistere anche per chi è più sfortunato di noi. In 21 anni di attività giornalistica mi sono battuto tanto per le periferie, per l'Idoazzurro, per i disabili. Ci sono i video, ci sono i filmati che parlano chiaro. Per Taranto ho sempre combattuto. Non è solo lo slogan della mia campagna elettorale, ma è la mia storia. Per questo vi chiedo il consenso. Grazie.